Negli ultimi tempi il tuo compagno si sta comportando in un modo insolito. Tu gli hai domandato, va tutto bene? E lui ti ha risposto, sì, sono solo un po' stressato sul lavoro. In un primo momento hai creduto alle sue parole, ma qualcosa non ti convinceva ed hai iniziato a pensare, non è che mi sta tradendo? E per questo motivo adesso sei qua ad ascoltare questo video. Oggi condividerò con te sette segnali che potrebbero preannunciare un possibile tradimento. Sei pronta? Iniziamo! Benvenuta, il mio nome è Riccardo ed in questo canale parliamo di crescita personale nelle relazioni. Se l'argomento ti interessa puoi iscriverti spuntando la campanellina. In questo modo ogni volta che pubblicherò un nuovo video, tu riceverai una notifica. I tuoi sospetti dovrebbero attivarsi nel momento in cui le parole non sono accompagnate dalle rispettive azioni. In altre parole, quando noti incongruenza tra ciò che fa e quello che dice, in quel momento dovresti iniziare a sospettare. Se come me pensi che l'ambiguità possa nascondere un tradimento, ti chiedo di lasciare qua in basso un mi piace. Prima di iniziare ad analizzare quali sono i sette segnali di tradimento, vorrei farti presente due cose. La prima è che tre indizi non fanno una prova. Quindi nel momento in cui noti qualcosa che non ti convince, non giungere a conclusioni affrettate. Ma prenditi un tempo e presta maggiore attenzione per vedere se oltre a quello che hai appena notato, si presentano altri segnali di allarme. La seconda cosa da tenere presente è che i sette segnali di cui ti parlerò non sono formule matematiche. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se il tuo compagno sta utilizzando il telefono in modo insolito, non necessariamente ti sta tradendo. Tieni presente che ogni relazione è differente e quello che io potrei presentare oggi come un segnale di infedeltà, magari nella tua relazione di coppia, rappresenta una routine. Ciò che dovresti fare è partire dalla vostra routine di coppia, dalla vostra normalità, e prestare attenzione se qualcosa cambia. Cambi in modo inatteso, perché quello allora potrebbe essere un segnale. Presumo che se tu stai guardando questo video qualcosa non va nella tua relazione, e quindi stai cercando di capire se una delle cause di questo malessere nella relazione potrebbe essere l'arrivo di un'altra donna. In questo caso direi che la tua curiosità è giustificata da un'evidenza oggettiva, ovvero un malessere nella relazione, un malessere evidente nella relazione. Ma se invece la tua relazione andasse bene, non ci fossero problemi, e tu stessi pensando e se mi stessi tradendo? Bene, in questo caso ti dirai che probabilmente tutto parte da una tua insicurezza. Non ti senti abbastanza e per questo temi la concorrenza. Se le cose stessero così e tu continuassi a guardare il resto di questo video, correresti un serio rischio. Esatto, rischieresti di ossessionarti con un possibile tradimento che molto, molto probabilmente si trasformerebbe in realtà. Ti suona la frase Ciò che credi crei? Bene, se tu stai vivendo una relazione priva di segnali di tradimento, ma credi che lui potrebbe tradirti, cosa fai? Inizi a controllare, indagare, essere indiscreta, scontrosa, nervosa. E a quel punto cosa accade? Che quest'uomo non avrà più piacere devi trascorrere il suo tempo in tua compagnia, poiché per te ogni occasione sarà buona per accusarlo, accusarlo di qualcosa che tra l'altro non ha commesso. Sai cosa accadrebbe? Che non trovando piacevole la tua compagnia, inizierebbe effettivamente a cercare un'altra. Ma ricorda, sei stata tu a favorire il terreno ideale affinché questo nuovo incontro germogliasse. Perché ciò che credi, crei. Spero che queste parole ti abbiano aiutato a fare chiarezza. Se pensi che lui ti stia veramente tradendo, allora continua ad ascoltare questo video. Se invece pensi che si tratti di una tua ossessione, ti chiedo di chiudere. Chiudi questo video e passa ad un altro. 5, 4, 3, 2, 1. Hai deciso cosa fare? Ok, allora iniziamo a parlare dei 7 segnali di un possibile tradimento. Numero 1, aspetto fisico. Ipotizziamo che vi conoscete da un po' e lui non si è mai dimostrato un tipo sportivo. Non gioca a calcio, non va in palestra, non ama camminare, non ama correre. All'improvviso ti dice domani mi iscrivo in palestra. Bene, questo sarebbe un segnale piuttosto evidente che qualcosa sta cambiando. Se prima non faceva sport e dall'improvviso inizia a prendersi cura del suo corpo e del suo abbigliamento, significa che ha bisogno di sentirsi sexy, attraente. La domanda che dovresti rivolgerti è attraente per chi? Ad esempio, quando vedo un amico o un'amica che dimagrisce o cambia la pettinatura, so che qualcosa è cambiato nella sua sfera affettiva. potrei non sapere cosa, ma so che qualcosa è cambiato. Numero 2. Comunica in modo differente. Cosa significa che comunica in modo differente? Che non sento più una connessione emotiva con quella persona. Lui è presente, ti parla, ma tu senti che manca qualcosa. Potrebbe rimanerti vicino, essere accogliente, sorridente, ma nonostante questo, tu lo noteresti distante, freddo. È un po' come se non sentissi la sua anima. Provando ad individuare dei segnali specifici, direi che un uomo che ti tradisce e comunica in modo differente tende a non approfondire un argomento da te proposto, si innervosisce facilmente quando gli rivolgi domande scomode o evita completamente di rispondere. Se lo osservi, ti accorgi che mentre ti parla non ti guarda negli occhi o rifugia il tuo sguardo e hai la sensazione che non ti stai ascoltando e che con sforzo, molto sforzo, potrebbe toccarti o prenderti per mano. Se invece spostiamo la comunicazione al mondo digitale, ti direi che potresti notare un cambiamento a livello di comunicazione perché riceveresti, ad esempio, messaggi romantici per poi accorgerti che la chat manca di ritmo, passione o involgimento. è come se ciò che ti scrive non fosse altro che un copia e incolla. Numero 3. Contraddizioni. La terza caratteristica di un uomo che ti tradisce sono le contraddizioni. In pratica, ti racconta di aver fatto una cosa ma quando, trascorso un po' di tempo, tu torni sull'argomento, ti accorgi che la versione cambia. lui ti dirà non è vero che in passato ti avevo detto quella cosa, le cose stanno come ti ho appena raccontato. Se vuoi valutare la possibilità che ti stia manipolando, portandoti a credere che sei tu la persona strana e che sei tu a farti strane idee, prova a registrare una conversazione. Quando accade qualcosa di insolito, chiedi gli spiegazioni e registra l'audio per poi, trascorso un po' di tempo, rivolgergli la stessa domanda in relazione a quel fatto e metterla a confronto. Non te lo suggerisco per prenderti una rivincita, per dimostrargli che è un bugiardo. Te lo sto suggerendo per prendere consapevolezza e capire, una volta per tutte, chi è l'uomo su cui sta investendo tempo ed energie. Numero 4. Usa il cellulare in modo sospetto. Nell'ipotesi, nell'ipotesi che sia in contatto con un'altra donna, il canale di comunicazione sarebbe di certo il telefono. Non è necessario invadere la sua privacy entrando dentro al suo cellulare, accedendo al suo cellulare. E basta prestare attenzione a dei comportamenti che potrebbero risultare insoliti, come ad esempio il fatto che rispetto al passato stia prestando molta attenzione al telefono, cambiando la password, posizionando lo schermo verso il basso quando viene appoggiato su un tavolo, innervosendosi se ti avvicina il cellulare al telefono quando ricevi un messaggio. Ti suona? Numero 5 Orari insoliti Un altro fattore da tenere in considerazione sono gli orari. Se prima aveva una routine e all'improvviso questa routine si stravolge, senza nessun motivo apparente significa che un motivo esiste, ma non è opportuno che tu lo sappia. Viaggi ed orari extra sono frequenti quando si lavora in un'azienda, ma questi dovrebbero essere la conseguenza di un'ascesa professionale o un cambio di responsabilità a livello aziendale. Quindi, te lo ripeto, se cambia la sua routine oraria senza un motivo apparente esiste un motivo di cui è bene tu non venga a conoscenza. Numero 6 Comportamenti sessuali differenti Il primo pensiero che potresti avere potrebbe essere Beh, Riccardo, a questo posso arrivarci da sola. Se lui non mi cercasse per il sesso è normale che mi insospettirei. Esatto, questa è un'opzione, ma devi sapere che ne esiste un'altra. Può sembrare strano, ma potrebbe accadere che avendo un amante lui inizi a cercare maggiore intimità con te. In questo caso la sua eccitazione è dovuta al desiderio che accende in lui l'amante. Numero 7 distanza emotiva. Con distanza emotiva mi riferisco a non sapere nulla di ciò che lui prova. Quando non ti racconta di sé, di ciò che lo preoccupa, dei suoi sogni, ti sta tenendo al margine della sua vita. Sta prendendo una distanza emotiva in previsione di un possibile allontamento dalla coppia. Tutto questo lo puoi notare perché oltre a non cercare un dialogo preferisce svolgere attività con amici o starsene da solo. Ti ho elencato i 7 possibili segnali di tradimento. Mi raccomando, mi raccomando, prendili in considerazione solo nel momento in cui entrano nella tua vita di coppia rompendo una routine. Oltre a questi ci sono altri segnali e se ti interessa conoscerli ti chiedo di lasciare un messaggio nel box qua in basso scrivendo segnali. Se il video ti è piaciuto puoi condividerlo, mandalo ad un'amica e se ancora non l'hai fatto lascia un mi piace. Io ti ringrazio, grazie per avermi accompagnato fin qua, vi mando un abbraccio e noi ci vediamo presto.